Conto alla rovescia per Vinitaly 2012, la Puglia è pronta ad esaltare ed inebriare il mondo con i suoi vini ed ovviamente anche noi lo siamo per raccontarvi giorno dopo giorno i momenti più interessanti con tutti i mezzi a nostra disposizione. Dai video ai live tweeting sui social network, dalle interviste alle fotografie, reduci dal successo alla bit di Milano, vogliamo rendere anche questo evento social. Il Salone dei Vini più importante al mondo apre quindi le sue porte da domenica 25 a mercoledì 28 marzo con l'obiettivo di superare i numeri della scorsa edizione 4164 espositori, quasi 160.000 visitatori e più di 2.000 giornalisti di settore. Nei ben 12 padiglioni della Fiera di Verona saranno presenti aziende produttrici di tutto il mondo anche dall'Oceania, America ed Africa, ma è l'Italia a fare da padrone e portare alta la bandiera di uno dei prodotti che rendono il nostro paese leader nel mondo. Saranno 125 le aziende pugliesi a partecipare. Un ricco programma di incontri, degustazioni, workshop, laboratori, messo a punto dall'assessorato le risorse agroalimentari della regione Puglia in collaborazione con Union Camere Puglia animerà gli spazi istituzionali dello stand della regione. E per questa 46esima edizione il Movimento Turismo del Vino Puglia ha in serbo un ricco programma di iniziative destinate sia agli operatori del settore sia al pubblico degli appassionati. Per questi, a prova di naso, una speciale caccia al tesoro fra i vini di Puglia per scoprire, divertendosi, le note olfattive dei più noti vitigni pugliesi il negro amaro, il nero di Troia e il primitivo. Vi racconteremo della Puglia dove la terra diventa vino, questo lo slogan del padiglione istituzionale il numero 10 allestito dalla regione Puglia. A fare gli onori di casa, insieme all'assessore regionale alle risorse agroalimentari Dario Stefano anche il presidente della regione, Niki Vendola. Andiamo a Verona, spiega l'assessore Stefano, con la consapevolezza che il nostro punto di forza è un sistema Puglia che ha saputo dare vita ad un brand che fa tendenza, una realtà finalmente orgogliosa e consapevole delle proprie potenzialità che sa valorizzare con un efficace spirito di squadra.